Carabinieri e tecnici hanno varcato i nastri bianchi e rossi per un nuovo sopralluogo su quello che resta dello chalet di Paolo Bonetti, andato completamente distrutto nell'incendio avvenuto poco dopo la mezzanotte del 29 maggio, a poche ore dall'avvio della stagione balneare a Porto Novo di Ancona, dopo i tre mesi di lockdown per il coronavirus. Il gruppo di esperti è stato nominato dalla Procura di Ancona, presente il consulente del RIS Giovanni Russo Lillo, esperto di chimica esplosiva, accompagnato dal capitano Vittorio Tommaso Delisa dei Carabinieri del Norme di Ancona. Al lavoro anche l'ingegner Gianluigi Guidi di una società di Bologna specializzata nella sicurezza antincendio. I periti dovranno redigere una relazione per ricostruire la dinamica dell'incendio, cercando di individuare le cause del disastro. Un danno di diverse centinaia di migliaia di euro, che pesa ancora di più in una stagione turistica partita in ritardo e con tutte le restrizioni legate all'emergenza sanitaria. Le indagini sono complesse e si continua ad indagare, senza scartare alcune ipotesi, dalla causa accidentale al dolo. Un percorso in salita dal momento che tutto, comprese le telecamere dello chalet, rinnovato o almeno un anno fa, sono andate distrutte tra le fiamme. L'attenzione dei tecnici durante il sopralluogo si è concentrata sui frammenti della pavimentazione, ma anche su una parte di una porta risparmiata dal rogo. Un altro pezzo che con altri già arrepertati servirà a comporre il puzzle di un avvio di stagione già difficile e in questo caso andato letteralmente in fumo. Restano il mare cristallino e gli ombrelloni sull'arenile. Almeno la parte balneare è stata risparmiata, così come il bosco che fa da cornice a uno degli angoli più suggestivi della baia anconetana.